questa è la presentazione del libro di quest'uomo alla mia sinistra che si chiama lui sebastiano gravina il libro libro cecato con la i giusto cieca quanti sbagliano scrivendo cecato senza la i tanti sono un sacco di ignoranti peggio di me come me no io dico sempre infatti sempre sempre cercato con la i perché tanti scrivono cecato con la e ma cieco è repubblica cieca siamo parenti repubblica la mia repubblica però insomma io lo scrivo con la i non pensi di video cecato sarebbe il nome della tua pagina dei social sì ma perché non te ne crei anche una che si chiama cecato senza salari così da raggiungere tutto quel pubblico che ci avevo pensato però me l'hanno già rubato sa già un video cecato senza i e che quello stronzo non lo so però qualcuno l'ha fatto ma anche lui non vedente o semplicemente così facino roso che ha voluto toglierti alcuni seguaci non l'ho mai visto quindi non lo so se senti come nasce l'idea di scrivere questo libro a parte chiaramente il nobile intento e voglia di monetizzare sulla disabilità ma soprattutto ho pensato la mio alla mia disabilità ho detto devo trovare un modo per frecare le persone oltre che frecare all'inps devo fare un libro così mi intasco qualche scuola e l'idea è stata quella poi ovviamente ho detto perché ci devo scrivere qualcosa e ho pensato a scrivere così mentre ero in bagno un giorno ti vengono le migliori idee no si è nata così a caso senti solitamente quando si fanno le presentazioni del libro c'è c'è il moderatore in questo caso sono io che che non l'ha letto in questo caso siamo entrambi a non averlo letto io però ho dato un'occhiata sommaria e sembra carino a parte qualche strafalcione so che tutte le appunto gli sbagli non sono opera tua perché non l'hai effettivamente scritto tema ti sei fatto aiutare lo possiamo dire o è una diciamo alessandra come come funziona da questa 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 sinergia cioè lei si può definire una ghost rider o tu dettavi lei sentiva e elaborava perché magari non le piaceva come dicevi delle cose le scrive a modo suo cioè quanto c'è di lei nelle scritte di questo libro beh diciamo che ogni tanto ci sono delle parole scritte male congiuntivi quindi diciamo che non sempre ha capito bene quello che io dicevo però diciamo che se l'è cavata se l'è cavata c'è c'è anche del suo ovviamente ho capito più o meno eh nel senso ti sei fatto un'idea del del libro cioè come oggetto beh io mi immagino un libro ho la fortuna di non vedere la copertina la faccia che c'è sopra io ho la mia fortuna che tutte le volte che dico la mattina non mi guardo in faccia e poi mi immagino la povera gente che si si deve vedere la copertina con la mia faccia vabbè ma mica tutti ci sono tutti quelli che non l'hanno comprato non ci hanno ma meno male ma io glielo auguro glielo auguro senti mi ha colpito molto la cito una delle proprio l'ultima frase del libro che recita finito di stampare per colpo di people srl nel mese di marzo 2003 da rotomail italia spa stabilimento di vignate milano ecco com'è il tuo rapporto con milano dipende carina bella milano mi piace è dei bei colori una città molto colorata ma comunque non so se secondo me hai sbagliato libro no 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 questa è una cosa di cui abbiamo parlato oggi anche quella bastarda che ha scritto se cazzate sopra il libro mio se vuoi c'è dell'acqua ah sì a vedere qua 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 ecco ma che brava gentile e no perché la cosa che mi colpiva non mi fido è pieno sì che volte mi fanno lo scherzo bevi poi non c'è un cazzo dentro succede ecco nel libro tu parli anche di gente che ti ha rotto le scatole per la faccenda dell'essere cieco io pensavo che essere una disabilità ti risparmiasse queste cose io ho sempre pensato l'unica cosa buona è che le persone ti rompono meno le scatole in giro perché dicono aspetta no fermo quello quello è cerco noi andiamo a rompere le scatole invece te proprio oggi mi hai detto che trovi gli stessi fietenti per strada che troviamo noi cioè gente che s'arrabbia quando cammini da una parte quando parte cioè io ad esempio quando cammino sui binari c'è sempre il controllore che mi fa fermo qua non si può allora che sta facendo e tu mi hai detto che per te vale lo stesso cioè gente che polemizza la tua condotta stradale senza preoccuparsi e non la vedi invece come un modo di integrazione cioè il fatto che io trovo un maleducato per strada che mi tratta male senza sensibilità mi rende come gli altri o invece dici no a maggior ragione sei sei un maledetto sull'inclusione sì è vero cioè ci sta è inclusivo sicuramente il fatto che uno dice ti tratta come gli altri tipo il signore che si è arrabbiato perché gli ha dato una botta col bastone di cui mi parlavi oggi no ok inclusivo tutto quello che vuoi però figlio mio guarda cioè voglio dire come fai a dire a un cieco guarda dove vai vabbè così come hai detto te ah tu dici come fai dal punto di vista della forza d'animo eh no no per dire cioè purtroppo è e poi mi incazzo perché dico io devo guardare dove vai cioè voglio dire purtroppo ci sono ce ne sono tanti ce ne sono tanti senti quelli che guardano le vetrine camminano come i zombie con le teste girate cercare in giro e non guardano dove vai ti vengono a sbattere e dicono ah vedi ma magari sono ciechi anche loro l'ho pensato ma forse è un mondo che mi aspettavo meno ciechi invece ce ne sono di più di quello che mi aspettavo probabilmente sarà così senti hai già ricevuto dei feedback sul tuo libro cioè già gente che ti ha detto mi è piaciuto non mi è piaciuto lo potevi fare più lungo più breve no e feedback no diciamo che secondo me la gente se ti dice che è bello perché te lo deve dire sì chi non ti dice niente perché o fa cacare o non l'ha letto ok dipende da che conosco sebastiano l'ho conosciuto perché lo invitai a una trasmissione che facevo qualche tempo che era un anno fa una puntata di un anno fa di un programma sì a febbraio a febbraio erano lui e la attuale consorte che siete sposati no regolarmente sì sì ok ho provato a farlo in maniera clandestina ma ho detto vabbè va chiamiamo certi problemi la quale sta aspettando lo diciamo nicole nicole che non la moglie nicole nicole tu sei di bari e vivi però in liguria in liguria ma dove esattamente pietra ligure pietra ligure adesso tutti i 600 presenti in sala stanno pensando ecco perché nicole perché il santo padrono di pietra ligure si chiama nicola proprio esatto esatto come quello di bari che ti vedi tutti quanti che 600 hanno sono intelligenti queste persone sì 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 e quindi questa anche shadia che è la tua compagna è non vedente ecco io ho scoperto oggi da che ti conosco che tu per un periodo all'inizio un po ci vedevi quindi no dimmi dimmi sì no non benissimo però comunque sai cos'è il rosso sì tra virgolette però poi ho detto mi sono andato un po informare e quando mi hanno detto i vantaggi che c'era essere completamente cercato cioè c'è meglio meglio averla totalmente meno male che meno c'è un po di van parecchi vantaggi cioè c'è il vantaggio di sapere se io ti dico ah sta stanza è tutta rossa esatto tu almeno sai dove stiamo immagino perché se è vero era un colore minore ok in questa stanza è preponderante c'è anche dei drappeggi rossi vabbè comunque bella però sì 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 di colore immagino no questi due principalmente questi due principalmente questi due e anche il nostro vestiario comunque abbastanza in tinta con la io non so mi sono vestito spero di essere mi sono vestito giusto tipo al lecchino sopra leopardato sotto e speroni alle scarpe e non era quello che volevo mettermi però vabbè e io come te capita spesso no e quindi quindi ho scoperto oggi che che c'è sta che tu per esempio hai un memoria di ciò che è la grafica perché tu lavori con i computer fai i siti fai siti internet sì facevo facevi poi ti sei montato la testa per il libro no 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 continuo a farli continuo a fare diciamo prima era più cioè è una passione come la prima ora è più un hobby più che un lavoro diciamo però ah ok chiaramente quello che faccio qualche sito internet tu ne fai tanti non sarei qua sicuramente ma l'avrei fatto il libro sicuramente se avessi fatto tanti siti non so volevo dire a cui tu hai fatto il libro con un intento di arricchirti è chiaro certo spero almeno spero ci provo non so vabbè guarda di tutti i modi che ci stanno di fare soldi penso che scrivere il libro adesso il tuo è un caso eccezionale perché qua sono quasi mille persone adesso sono appena entrati un pullman da rovigo che bel grazie ma no vedi quello fa anche perché hai detto che cazzo cieco di merda prego ho detto c'è un cieccato di merda non vede poverino compriamo il libro peccato il ragazzo no perché non vengo tanto non se ne accorge sì però senti no e quindi appunto realizzi siti internet quindi questa cosa io ti ho chiesto oggi ma scusa come fare a realizzare siti internet in html questa è una cosa che vabbè pubblico femminile quindi di html credo che proprio non sia il pane quotidiano voi con gli occhiali html casa vostra e tu realizzi siti in html però poi non vedi il risultato lo vede qualcuno al posto tuo che ti dice bello brutto funziona non funziona ok ti confesso che quando ho saputo che c'è stato un periodo della tua vita in cui vedevi non dico di essere stato deluso però mi ha un po cambiata la concezione di te cioè ho detto beh ma allora io tutte le volte che faccio giri di parole per non dire fucsia invece potevo dire fucsia effettivamente ovviamente ho provato un po a e allora possiamo dire però non dirlo troppo forte possiamo dire che allora il violetto il violetto è preponderante nella copertina del tuo libro questo allora lo possiamo dire c'è un violetto che fa cacare insomma non ho detto questo non ho detto questo però appunto magari sì secondo la mia idea il violetto non è diciamo non è il massimo ecco però tra il tuo pubblico immagino che ci siano anche altre persone che hanno questa famosa cecità ammesso sempre che sia vera e dico leggeranno o comunque fruiranno in qualche modo del tuo libro secondo te e in che modo esiste un audiobook che significa per chi non parla in inglese audiolibro no l'audiolibro non c'è perché non mi interessa che lo leggono i cecati libri no in realtà c'è la versione kindle sai che cos'è kindle si si l'ho detto e voi sapete che cos'è kindle tanto non ve lo spiegavo no no c'è 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 il libro il libro il libro robot bravo esatto sì lo voce un po così e c'è poi stavo pensando l'idea di farlo anche in braille ma per adesso no non c'è tu sai leggere il braille sì ahimè purtroppo sì perché purtroppo beh se ero vedente probabilmente era meglio che non ah tu dici purtroppo perché è conseguenza del fatto che ah vabbè certo oddio vabbè poi ci sono anche insegnanti magari diventavo insegnante di braille così senza saperlo senti ma in molti sanno leggere il braille molti non vedenti ma quanti non vedenti sanno scrivere in braille soprattutto come si scrive in braille beh allora io direi che di solito quando tu leggi il braille più o meno lo sai anche scrivere perché sono lettere che le fai al contrario rispetto a come le leggi il braille ha una particolarità ma che in pratica tu scrivi da leggi da sinistra a destra e scrivi da destra a sinistra come gli arabi bravi come gli arabi sincronizzati sembra che l'abbiamo preparata questo invece e quindi lo scrivi come col punteruolo a mano come gli antichi egizi oppure con la dati robrai che è una macchinetta tipo macchina da scrivere che buca il foglio quindi lo danneggia esatto lo danneggia infatti è un peccato è un peccato oppure quelli che non hanno voglia di fare un cazzo come me prendono il computer digitano sulla tastiera e poi la stampante in braille stampa ah ok ok e fai i primi senti cosa ti piace di questo libro cioè qual è la parte che quando l'hai fatta hai detto oh questa cosa sono contento che sia uscita fuori non sarebbe potuta uscire fuori in altra maniera se non per iscritto visto che tu comunque racconti le tue faccende gli affari tuoi in formato video principalmente a un certo punto è uscito fuori il cartaceo e cos'è che ti dà il cartaceo che non ti dà invece l'odore il cartaceo mi dà l'odore del libro però per questo non bisogna scrivere un libro basta comprarne uno no no chiaro però il fatto di averlo scritto e fatto uscire così potevo anche far uscire solo digitale no il pdf ah ok mi costava meno sicuramente da un punto di vista narrativo cioè qual è la parte che dici oh vedi questa questa cosa qua tipo pagina a pagina ma ce ne sono tante di cose che il fatto che comunque passi il messaggio che siamo persone prima e dopo disabili è un messaggio che in qualche modo cerca di passare non dicendolo diciamo in prima linea però tra virgolette no cioè chiaramente si dovrebbe capire in teoria se una persona è un po più intelligente di me non ci vuole tanto dovrebbe capirlo in teoria spero e quindi quello e poi il fatto che comunque si possa vivere una vita normale tante volte uno si pensa dice di cecati poverini chissà come vita fanno poi alla fine facciamo una vita normale quindi con il libro ho cercato di spiegare un po che alla fine può avvenire un cazzo cioè nel senso oltre a fare una vita normale abbiamo anche un sacco di soldi tipo quantificalo quanti quanti soldi possono essere all'incirca siamo nell'ordine dei diciamo che se vai al ristorante in pizzeria prendi la margherita o quella che ha il nome del ristorante tipo la pizza beh senti io sono di bari però vivo in Liguria da tanto tempo quindi sono un po stretto la manica mi sto un po abituando a loro ho capito però dipende tu quindi questa tosse è un'altra tua malattia di cui vogliamo parlare è una mia disabilità che la vista a me è l'ultimo dei problemi vuoi l'acqua no 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 così mi passa senti e Shadia che è tua moglie anche lei non vede anche lei è meno male che di l'ho presa a posto così non si rende conto di me sono col cazzo che stava quello dire c'è una fortuna poi non si accorge quando vedo le altre c'è una categoria di cui io mi avevo interessato in passato in quanto grande fan di Renzo Arbore lui insomma per anni ha lavorato alla lega del filodoro che sono i sordo ciechi ecco ma una moglie sordo cieca non sarebbe stato ancora meglio se il tuo problema era non farti accettare avevi paura che lei ti accettasse quindi l'hai scelta senza un senso ma se ne fosse mancato un'altra credi che l'amore che lei avrebbe provato per te sarebbe stato più grande o in qualche modo il tuo modo di parlare ha inficiato sul vostro rapporto in positivo visto che state aspettando sicuramente sono più tranquillo io perché oltre che non mi vedeva quindi stava con me non mi rompeva i coglioni però parla attenzione parlano i sordo ciechi vogliamo fare sordo cieco muta chiudiamo chiudiamo non ne parliamo più sono valapena scusa le lasciamo solo il odorato per sentisto libretto che puzza del gessomino esatto ok ok è sufficiente però sfortunatamente è soltanto cieca è soltanto cieca senti sebastian perché una persona dovrebbe leggere questo libro pensi che quelli che non ti conoscono tu fai varie cose su quanto è brutto quando le persone dicono sui social le fai su tiktok si sa perché uno dice sempre sui social in modo che uno c'ha paura dei nomi delle cose e delle cose su tiktok però se uno che non ha tiktok non ha idea di chi sia il video scecato leggesse questo libro lo capirebbe comunque o fai riferimenti a cose dei tuoi racconti online che uno lo legge e dice no spera ma che è no diciamo che con il libro dovrebbero in teoria intuire chi sono se non mi avevano mai visto e comprano il libro diciamo su amazon libreria e dovessero mettersi a leggere il libro dovrebbero capire insomma io racconto la mia vita ma anche la mia esperienza che ho fatto con tiktok con instagram quindi dovrebbero capire anche con l'ironia che utilizzo nel libro che è quella che utilizzo nei video scoprire chi l'idea del libro ti è venuta a te o ti ha chiamato una casa editrice che ha detto che appunto è la la simpatica people people poi sottotitolo storie che comunque c'è l'idea tua è una mia idea che avevo già 4 5 anni fa solo che come adesso non ero nessuno non è che io abbia fatto chissà che carriera e quindi abbandonai l'idea perché non sapeva che cosa scriverci a che pagina hai abbandonato l'idea all'incirca perché io mi sono fatto un'idea io penso alla 12 a 12 si sente che la c'è proprio un cambio di registro e quindi alla fine poi è nato sto video cercato raccontiamo come è nato video cercato che anche un cieco che non vede come a me può fare video e quindi non è che vengono tutti benissimo no però tu hai qualcuno che il naso a metà sì il naso a metà senti ma tu sei uno a cui dà fastidio quando ti danno degli aiuti o no cioè tipo quando ti dicono attento lì occhio che là c'è una cosa dipende dipende come lo dici e se me lo dici ogni 5 secondi sì se me lo dici ogni tanto che però se ti fa una scalinata è tipo ogni secondo un gradino quindi uno te lo devi dire ogni volta scalino 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 a quel punto si dice scala scala così con una parola risolvi il problema ok ok io avevo con la band con cui suono da 15 anni suonavamo in posti molto piccoli e c'eravamo pochissime persone che ci venivano a sentire però tra queste c'era una ragazza non vedente lei ci faceva i video durante i concerti e poi li postava su facebook ma spesso erano girati oppure a testa in giù oppure messi a selfie e lei li postava e nessuno gli diceva niente e finché un giorno glielo ho detto io e lei mi ha ringraziato vedi nessuno nessuno mi dice niente e poi vabbè l'ho bloccata perché metteva sti video brutti però ecco cioè tu preferisci che uno te lo dica quando sei in impaccio o ti secca o preferisci sbagliare e andare avanti senza saperlo perché lei appunto era circondata da persone che non gli dicevano niente perché nessuno diceva guarda Esther hai messo il video all'incontraio no 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 in quel caso lo trovo giusto è giusto allora te lo dico la prossima volta ti mando un messaggio senti ammesso che io non l'abbia fatto apposta eh no infatti perché poi uno magari pensa l'ha fatto apposta è quello è capirlo e tu devi capire se l'ha fatto apposta oppure no senti eh tu stai vedendo mare fuori sì ti piace? eh per me quello che ho visto sì cioè vedendo lo stai seguendo lo segui con le io lo vedo io lo vedo con le orecchie sì sì lo vedi con le orecchie immagino perché questo è un appello simpatico da fare eh le cose sulla Rai si possono fruire ne può fruire anche un non vedente sì mentre le cose su Netflix se sei cieco t'attacchi t'attacchi esatto e quindi da questo punto di vista la simpatica Rai è qui a Micco perché comunque un paio di spicci io dalla Rai l'ho presi e quindi anche perché parlare perché non parlare ogni tanto bene di un'azienda poi adesso spero che questo video arrivi anche ai piani alti e magari capiscano che comunque hanno in me un amico e un sostenitore giusto però e non solo anche il libro chiuso che ne ho parlato nel libro ne hai parlato sì sì senti no e quindi tu grazie alla Rai riesci a vedere delle serie perché c'è la descrizione come si chiama? l'audio descrizione l'audio descrizione mentre su Netflix questo programma è anche seguibile no non vedenti ah sì è vero è vero e non ti secca che per questo motivo tu ti trovi costretto a seguire delle serie meno belle di quelle che magari stanno su Amazon o su Netflix eh sì devo dire che ogni tanto capita che fanno la serie non è carina e dici quella dovevo guardare cioè tipo il paradiso delle signore tutto lo vedi no no però immagino non ho ancora visto però poi ti dirò ok ok quando lo vedrò ti saprò dire ok ok senti Sebastiano e tu c'è tutta una comunità non vedente che ti segue mi hai detto cioè non so quanti sono siamo nell'ordine dei diecimila? di che cosa? non ho capito no tu sei seguito molto anche da una comunità di non vedenti su senti sì non ho capito tu sei seguito su Instagram su TikTok eh anche da altri non vedenti come te ah eh non vedenti sì ecco queste persone ti vedono come tipo una voce che può parlare per loro o un pochino sotto sotto gli stai sulle valle diciamo sia sotto 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 che pure in mezzo e pure sopra cioè tu stai sulle valle e non vedenti ma perché perché invidia invidia sono proprio i peggiori sono i peggiori c'è l'invidia purtroppo c'è tanta invidia accecati dall'invidia mi viene da dire perdonami ci vedono dall'invidia questo gioco di parole secondo me uno dice mi spiace non ci vedo più dalla fame e invece non vedono più dall'invidia proprio non ce la fanno ti dà fastidio quando la gente dice non ci vedo più dalla fame ti dico ti svelo una cosa tutti noi vedenti anche quando abbiamo fame ci vediamo uguali a prima quindi non si sa perché abbiamo adottato questo il coglione che l'ha inventato non si sa a che serve allora ma poi perché al massimo non riesco più a parlare dalla fame tutti i ciechi sono diventati ciechi perché non mangiavano credo di non risolvere ora il problema tu hai mangiato negli ultimi quanti anni hai? 33 eh 33 anni perché magari scopriamo che è quello eh devo farmi fare un po' di controllo proviamo proviamo magari non sei non sei del tutto sazio eh potrebbe essere senti allora comunque proprio pistola alla tempia ti dicono il libro la gente non è convinta a comprarlo ma tu devi in qualche modo hai provato a convincerli insomma in questi ultimi non so quanto tempo sia passato ho contato un paio di ore ma un difetto che trovi a questo piccolo tomo che hai realizzato con l'ausilio dell'ottima Alessandra qual è? cioè una cosa che nel prossimo libro dici non voglio più fare questa cosa non lo so un congiuntivo un capitolo un po' debole un utilizzo del dialetto i momenti troppo seri profondi che non fanno parte di me c'è una parte scritta bene che ovviamente non l'ho scritta io non l'hai veramente scritta lei no e chi l'ha scritta Alessandra e la mia madre quindi c'è anche una componente autorale di Alessandra non è solo una mera spingitrice di pulsanti no 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 c'è diciamo che la difficoltà di Alessandra è stata cercare di mettere insieme i congiuntivi che io sballavo e buttavo a cazzo così parlavo ogni tanto sballavo i verbi parlavo al passato al presente non si capiva niente ok ha interpretato questa è un'altra disabilità importante suppongo questa è un po' di invidia io ho gli allarmi da diabetico perché eh sì siamo in due qui con delle disabilità io adesso ho glicemia alta perché ho mangiato il gelatino accanto però vabbè capita capita scusami senti dimmi dimmi vai no no vai no no di vai parlo che stai dicendo e no diciamo quindi ne conti di scriverne un altro di libro eh no non penso proprio eh però sti soldi se basti ha e li dobbiamo fare se mi fanno vedere una lira a questo sì se ne sono andate due persone vedi quelle speravano in un tuo ritorno letterario invece appena hai detto che non lo farai più per carità sono due ma neanche si notano perché siamo 800 però non credo se ne sono andate e tipo tu prima hai detto viene prima la persona della disabilità sì che si intende per questo cioè che tu ovviamente lo so senza che te lo chiedo sei una sfaccettatura di cose di interessi che esulano dal fatto che sei eh ciecato ma eh appunto il prossimo libro sì perché non lo scrivi su un altro tema così lì proprio ti mostri che e là e là sfido io a dire Sebastiano Carina il disabile il cieco perché là diventa lo scrittore se dicono il cieco te fai attenzione la persona viene prima io ho scritto un libro che parla dell'abbigeato che è un reato quando rubano il bestiame parli di quello e a quel punto metti proprio sotto evidenzi la questione del la persona viene prima non ci hai pensato quale potrebbe essere il tuo prossimo libro oddio eh non ci ho pensato non ci ho pensato perché ripeto uno è sufficiente perché voglio dire già sai che uno ignorante come me abbia fatto un libro abbia fatto è giusto si dice che uno abbia fatto un libro si si vedi che intanto chiedo perché disparo l'incongiuntiva a volte vengono bene per quello che dico il trucco è non sottolineare tu parla nessuno si accorge quindi per il momento non credo però potrebbe essere che ce l'abbia però nel caso non spoiler nel caso non spoiler ah non spoiler scusa se non comprendi questo no 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 non l'avevo sentito semplicemente senti quindi tu hai quando è che c'è stato il momento in cui hai capito che i video che facevi ti hanno permesso di arrivare a un tot di persone tale che potevi addirittura scrivere il libro ma in realtà devo essere sincero non ho pensato a scrivere il libro in base a quante persone mi seguivano non l'avrei fatto a prescindere anche perché come dicevo prima l'avrei voluto fare già 4-5 anni fa solo che prima non sapevo che cosa scriverci e ora è venuta poi forse una motivazione sinceramente non ho pensato a quantità di persone che mi seguono e tantomeno la quantità di persone che potrebbero potevano comprarlo ho capito va bene c'è un momento che è abbastanza secondo me evitabile nelle presentazioni dei libri è quando si chiede alla gente se ci sono domande perché segue sempre un silenzio di 4 minuti finché una persona impiedosita fa io volevo chiedere chiede una stonzata quindi lo vogliamo saltare o facciamo in modo che ci interrompono se ci sono domande quindi sappiate che se volete fare delle domande ci interrompete in questi ultimi 5 minuti di chiacchiera perché se io adesso ve lo chiedo se sta quel momento che sono 600 persone quindi qualcuno sicuramente ci sta ma evitiamolo questa è l'occasione buona che lo chiedono tutti fino a domani sono qua esatto quindi eviterei anche a loro poverini esatto senti ovviamente tutte le volte che hai fatto presentazione di questo libro il tema era sempre questo quindi si parlava dell'essere di Sare quale sarebbe un tema di cui ti andrebbe di parlare serenamente ma di cui non riesci a parlare perché comunque poi si parla sempre di questa cosa che te non ci vedi cioè tipo un interesse tuo principale io sono una persona senza interessi tu sei senza interessi quindi sei uno di quei casi in cui la disabilità viene prima della persona sì bravi però non lo posso dire non lo direi troppo forte però tu ti prendi la responsabilità cioè di te si può dire Sebastiano il disabile punto e dici no però prima la persona e tu sei il primo a dire no qua stiamo parlando di mera disabilità disabilità lascia quello va bene così io non eh però vabbè ora sarai padre tra poco quindi potremmo dire Sebastiano il padre però effettivamente è strano c'è una domanda da un ragazzo però diciamo che sentiamo questa questione che adesso forse abbiamo un vero disabile non una persona prima della disabilità prego no no non è a te dicevo prego no stavo dicendo che dipende dai punti di vista da come vediamo le cose di solito c'è prima la persona e poi la disabilità ma in certi casi diciamo che lasciamo prima la disabilità e poi dopo le persone ho capito ho capito dipende da certo capito una domanda dai ragazzi in prima fila eccolo così mi sentono fino in fondo no abbiamo riso abbiamo scherzato perché tra di voi due alla fine tra entrambi fate fate abbastanza ironia e diciamo ridere sulla disabilità ritengo sia fondamentale ma secondo te Seba un po' delle critiche che arrivano poi nei tuoi confronti forse il fatto che tu ritieni che sia appunto ridere sulla disabilità sia fondamentale per arrivare a un processo di inclusione molti però credono che invece sia controproducente perché in qualche modo potrebbe aumentare gli stereotipi nei confronti di determinati disabilità tu cosa tu dove cioè ritieni che ci sia un po' di verità in questo o secondo te è lecito scherzare di tutto e scherzare sulla disabilità a prescindere è fondamentale io credo che sia lecito perché alla fine io non è che ironizzo per prendere in giro la disabilità io lo faccio perché mi piace perché penso che sui propri problemi uno debba ridere quindi non è un discorso di disabilità è un discorso neanche di inclusione cioè non è che facendo ridere dicendo stupidaggini sulla disabilità voglio perché voglio è un modo per essere più incluso nella vita delle persone diciamo nella vita normale io non mi interessa dell'inclusione è semplicemente un messaggio come dire tutti abbiamo i problemi pure tu c'è il problema la disabilità sì sì anzi ce n'hai due una è quella che abbiamo imparato prima e un'altra che tu vabbè sì 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 non so se la conosci comunque ce l'hai sì sì oh che l'hai l'hai remoscia è un brutto problema l'hai remoscia è vero sono tre allora ecco me l'ho dimenticato però è è vero che è un modo per far capire alle persone che tutti abbiamo i nostri problemi ridiamo tanto che cosa cambia se mi piango addosso e sul fatto che voi c'è chi vi pupate molto di più di pensione rispetto a noi in serie a rotelle non ho capito cos'è che prendete più più pensione voi rispetto a quelli sulla serie a rotelle io farei una battuta su questo io lo trovo giusto io lo trovo giusto tu scusa sei in serie a rotelle o sei giocato sono in serie a rotelle o sei in piedi seduto 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 cazzo tuoi no vabbè io lo trovo ingiusto io penso che tutte le disabilità sensoriali devono essere tutte allo stesso livello almeno di riconoscimento economico io ad esempio avevo una zia che lei se n'è andata per una una specie di sla non era sla però era molto simile non si è capito che cosa fosse e lei si è ritrovata da un giorno all'altro a essere addirittura imboccata e lei non prendeva neanche 700 euro e io dico cazzo ma io che corro gioco a pallone cammino sto bene non vedo e devo prendere più di 1000 euro rispetto a lei che deve essere asseguita ma non solo per la disabilità in sé ma anche perché purtroppo io magari non ho bisogno di un assistente tutti i giorni tutti i momenti lei si e quindi ha un costo e la disabilità ha un costo sia per la persona disabile tante volte che soprattutto per le famiglie e quindi io dico perché un sordo è diverso da un cieco chi lo dice che è meglio essere cieco o meglio essere solo chi lo dice secondo te è meglio essere sordo o cieco secondo te chi l'ha detto forse non lo so non lo so ma anche io perché che cazzo non vedo vabbè se fossi sordo non potrei sapere come non vedere giusto o sbaglio quindi è giusto che lo Stato riconosca gli stessi soldi diciamo così però lui parlava di quelli sulla serie a rotelle e te hai fatto finta di niente hai parlato delle cose sensoriali cioè ci hai girato intorno ho capito lui ci sente ci vede sì ho capito ma comunque ci sente pure un po' meglio di te perché comunque io farei un controllo all'udito ma io non ho visto che lui si è tutta in serie a rotelle ah dice finché non lo vede lui potrebbe anche dire ma metti che non è vero no no è vero ti posso assicurare no no almeno c'è là poi ovviamente vai a capire voi lì vai a capire è lo stesso sono capaci di tutto no ma è lo stesso cioè ci sono alcune che veramente non sono diciamo ma vabbè ha fatto l'esempio comunque che è chiaramente contingente ha senso capito in quel senso là sì sì ho risposto alla tua domanda no no sì si la avevi ruotament no ah grazie bene bene mi fa piaccio mi fa piaccio senti c'è scritto sul su questo c'è un pannellone dietro di noi illuminato con scritto il tuo nome Sebastiano Camina libro cercato People con Valerio Lundini e Fabrizio Vespa Fabrizio Vespa è lì lì perché non è qui visto che c'è scritto il suo nome la gente pensa che uno di noi due è Fabrizio Vespa è lì è lì che ruolo ha avuto Fabrizio Vespa in questo in questo libro importante importante diciamo che si è poi arrivata la stampa e ci sono le scritte ci sono le scritte sì ci stanno non in tutte le pagine ti confesso le prime due mi sembra ha risparmiato sul toner no ma quello si fa sui libri ha avuto un ruolo importante perché sicuramente l'editore che abbiamo che ha se ne è occupato lui e si è occupato proprio di a parte di organizzare questa bellissima giornata con 700 persone è stato fondamentale e non solo per il libro in realtà solo per il libro perché comunque prima di quello si è occupato di altre cose con me di viaggi mi ha fatto andare si è occupato del punto della mia del mio soggiorno nelle langhe come influenza a fare dei video sul territorio dell'accessibilità e continuo ancora oggi oltre al libro a darmi una grossa mano quindi sicuramente grazie a lui perché c'è il libro insomma va bene va bene signori io penso che abbiamo detto forse anche troppo tu c'è qualcosa che vuoi aggiungere anche un pensiero una cosa io voglio bene a queste persone che sono venute a guardarci che secondo me non vedono l'ora di andare a mangiare di lasciare libere c'è stato un applauso di un provocatore hanno dei volti proprio che stanno dormendo qualcuno là in fondo sta sbadigliando ad esempio a te te li senti un po' i sbadigli ti arrivano ti arrivano va bene allora io ringrazio Sebastiano Carina ringrazio ringrazio Valerio sono io Sebastiano ciao a tutti il libro se queste persone se lo volessero non credo però metti che uno se lo vuole comprare se lo vuole fare questa cazza di spendere i soldi malo modo che fa cioè non c'è un banchetto c'è un pianoforte perché hanno detto i soliti cliché hanno detto invidiamo un cieco e poi mettiamo il pianoforte ragazzi il mondo non va così ma no veramente vergognati queste cose è proprio la prima cosa a cui uno ha pensato diciamogli dove il pianoforte il pianoforte chissà perché poi hanno detto il pianoforte sì sì esatto classico quindi dove lo trovano questo libretto dove sta qua da qualche parte su Amazon quindi non lo vendono qua ma che cazzo ne so no c'è 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 dovrebbe stare mi hanno detto che sta io non l'ho visto sì sì no neanche io comunque dovrebbe essere però c'è va bene grazie a tutti per essere venuti grazie a tutti per essere venuti qua Sebastiano Gravina grazie Valerio Lundini libro scicato grazie a tutti